pace e bene cari amici bentrovati in questa seconda domenica del tempo ordinario incontriamo nuovamente la figura di giovanni il battista impegnato nel rendere testimonianza gesù oggi vogliamo leggere questo testo con una chiave particolare quasi mettendoci alla scuola del battista per imparare da lui sul come dare testimonianza del signore in particolare cogliamo tre punti il primo giovanni parla della sua esperienza personale di gesù cioè come egli lo abbia riconosciuto come messia secondo punto giovanni annuncia ai giudei chi sia gesù e che cosa egli sia venuto a fare in modo che essi possano capire terzo giovanni è coinvolto esistenzialmente in ciò che annuncia cercando di vivere ciò che dice vediamo un po anzitutto come primo punto notiamo che giovanni parla della sua esperienza personale di gesù dice infatti io ho visto scendere lo spirito come colomba su di lui e colui che mi ha inviato a battezzare mi ha detto l'uomo sul quale vedrai scendere lo spirito e colui che battezza in spirito santo ecco giovanni parte dall'esperienza personale che ha vissuto di gesù potremmo dire che da qui parte anche la vita cristiana benedetto sedicesimo ci ha detto che all'origine dell'essere cristiani c'è l'incontro con il risorto e la conseguente adesione a lui c'è dunque un'esperienza di gesù vivo nella nostra vita come può avvenire questa esperienza questo inizio nel cammino di conversione beh in tanti modi quasi quanti tanti e diversi siamo ciascuno di noi cioè dio ci parla come noi possiamo capire per esempio una persona può far esperienza di gesù vivo sperimentando la potenza della preghiera magari in un momento difficile della sua vita oppure può accogliere gesù grazie all'annuncio di un altro cristiano oppure fare esperienza di lui in modo intenso durante una liturgia o un'adorazione eucaristica oppure leggendo un testo di spiritualità che lo apre alla scoperta della vita interiore o meritando il vangelo al quale dà la sua adesione e mi viene in mente ad esempio una testimonianza bellissima di una donna che raccontava che anni fa era atea e si trovava in ospedale a causa di una grave malattia di sua figlia che era credente la figlia intubata sofferente chiese alla madre di leggerle qualcosa la madre la consentì e la figlia chiese che le venisse letta la passione di gesù la madre la consentì iniziò a leggerla dopo un po la figlia si addormentò questa donna continuò a leggere il testo e testimoniò poi dicendo mia figlia si addormentava ma io mi risvegliavo la mia fede si destava per dire può avvenire in tanti modi l'incontro con gesù di certo che quello è l'avvio e anche nel dare testimonianza è fondamentale averlo chiaro davanti agli occhi come gesù è entrato nella mia vita quando io ho fatto la mia esperienza di lui inizio ovviamente di un cammino di relazione di fiducia con lui che poi è chiamato ad approfondirsi secondo punto giovanni dice giudei chi sia gesù e che cosa egli sia venuto a fare in modo che essi possano capire notiamo giovanni usa delle categorie delle immagini che applica gesù che erano molto chiare per un uditore di quegli anni giovanni infatti dice che gesù è innanzitutto il figlio di dio poi dice che è l'agnello di dio è colui venuto a togliere il peccato del mondo è colui che battezza in spirito santo immagini forti pensate all'agnello di dio per dirvene due dei vari echi veterotestamentari l'agnello fa venire in mente la pasqua il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti delle porte che aveva fatto sì che l'angelo della morte passasse oltre ed era emblema di tutte le forme di liberazione quanti sacrifici di agnelli sia per la comunione sia di espiazione venivano celebrati al tempio oppure pensate al servo del signore in isaia questo personaggio venuto a farsi carico del peccato dei suoi fratelli ad espiarlo tra l'altro se giovanni battista parlava in aramaico la parola agnello e servo è la medesima talia dunque per chi ascoltava il battista capiva che questo personaggio questo gesù che giovanni indicava era era qualcuno misterioso un personaggio particolare qualcuno venuto a farsi carico di tutto il male presente nel mondo e riconciliare con dio qualcuno venuto a liberare profondamente l'uomo dalla sua schiavitù è la più radicale quella del peccato qualcuno venuto ad immergere nello spirito santo quindi a immergere in dio quindi giovanni annuncia chi sia gesù e che cosa egli sia venuto a fare qui c'è un altro punto preziosissimo per il nostro dare testimonianza cioè cioè partendo dall'esperienza personale che uno vive ci sono dei momenti in cui siamo chiamati anche a dire chi sia gesù e che cosa egli faccia perché è così importante accoglierlo nella vita spesso si pensa che non serva che così uno possa vivere benissimo senza ma è importante aiutare a cogliere che solo lui è capace di riconciliarci con dio pienamente di ottenerci il perdono da ogni peccato di liberare i nostri cuori dalla schiavitù dell'egoismo di darci la forza di amare di comunicarci la sua vita eterna che ci rende vittoriosi persino sulla morte di scoprire che in lui quella pienezza d'amore di pace che il cuore cerca e a volte è anche importante mettersi in ascolto di ciò che profondamente cerca chi abbiamo davanti e aiutare le persone a riscoprire che ciò che più profondamente il loro cuore cerca è proprio in cristo terzo e ultimo punto implicito nel testo di oggi giovanni battista è coinvolto esistenzialmente in ciò che annuncia cioè cioè la sua vita è conforme alla parola che predica senza scadere in sterili moralismi però una cosa è certa se davvero incontriamo cristo se iniziamo a seguirlo se iniziamo a pregare a meditare la parola di dio ad incontrarlo vivo risorto nei sacramenti la nostra vita cambia e diventa attrattiva cioè vedi dio all'opera nel cuore tuo e delle persone che davvero hanno accolto gesù e c'è un cambiamento un cambiamento in meglio la bellezza di vedere una persona che sboccia davvero nasce a vita nuova qual è la meraviglia la meraviglia è che proprio attraverso parole vita che cambia le persone possono rendersi conto che davvero una persona ha incontrato e sta seguendo gesù un po volendo concludere con un'altra testimonianza come si racconta in una casa di recupero di tossicodipendenti dove venne accolto un ragazzo che non soltanto riuscì ad uscire dalle sue dipendenze ma trattandosi anche di una casa cristiana fu così edificato dalla testimonianza degli operatori da aprirsi anche alla fede divenne cristiano e a sua volta operatore ed era così servizievole affabile che edificava gli altri ragazzi accolti un giorno il sacerdote volle fare una riunione tutti insieme e parlava di gesù uno dei ragazzi ospitati chiese al sacerdote padre ma questo gesù del quale lei ci parla è buono almeno come giovanni che bella questa domanda questo ragazzo chiese ma questo gesù è buono almeno come quella persona che io vedo quel giovanni quell'operatore ecco questa è la testimonianza che da cristiani si è chiamati a dare una testimonianza che parte dall'incontro con gesù una testimonianza di chi lo vive per primo lo percepisce all'opera e coinvolto esistenzialmente la sua vita cambia e nell'annunciarlo aiuta a cogliere quanto sia importante decisiva la sua presenza nella nostra vita vi auguro a tutti buon cammino e buona testimonianza pace e bene